Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 si segnala traffico rallentato tra Calenzano e il BV A1 variante in direzione Bologna. In Fipilì coda tra Scandicci e Firenze Scandicci per viabilità esterna congestionata e coda per lavori tra Empoli ed Empoli Est, entrambe in direzione Firenze. Verso Livorno coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est, coda in uscita la strassigna provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve. Per lavori programmati tra Empoli Est e Montelupo l'entrata Empoli Est verso Firenze resterà chiusa fino al 6 novembre. Sul raccordo Siena-Bettolle ralentamenti per lavori tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga e tra Rapolano Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Durante la notte del 26 ottobre in orario 22.6 ci sarà un restringimento di carreggiata sul ponte alla Vittoria Firenze per manutenzioni programmate. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!